Il prossimo 10 ottobre il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà all'Aquila per partecipare all'Assemblea delle Provincie Italiane che si terrà ridotto del Teatro Comunale il 10 e l'11 ottobre. Due giornate d'incontro tra Presidenti delle Provincie, Sindaci, Consiglieri Provinciali Delegati da tutta Italia e rappresentanti di Governo e Parlamento per fare il punto sulle questioni più urgenti. Si rifletterà pure sulla definizione della nuova provincia. La presenza del Presidente Mattarella è prevista in apertura dei lavori il 10 ottobre alle 17 quando ci saranno prima i saluti delle istituzioni, poi Mattarella ma da confermare potrebbe chiudere. Il giorno successivo sono previsti anche i ministri Fitto e Zangrillo che saranno in presenza mentre potrebbero collegarsi il Premier Meloni e il Vice Salvini. Saranno presentati anche i risultati del percorso di attuazione del PNRR, inoltre si parlerà pure dell'autonomia differenziata. Sarà una grande pagina di storia per la città dell'Aquila, per il rilancio delle province. Mattarella parteciperà a questo evento convintamente perché ci ha dato un esito positivo alla richiesta di partecipazione immediato. Quindi saremo al centro del dibattito sulle nuove province ma sicuramente un momento di grande confronto anche con le realtà territoriali. Ecco ci sono tanti argomenti sul piatto, edilizia scolastica, insomma tanti. Discorso autonomia differenziata, che ruolo recita la provincia? Ma qui il tema è molto delicato. Abbiamo affrontato questo argomento in varie occasioni e se il regionalismo differenziato dovesse trovare attuazione il ruolo del regione dovenda decisivo per una corretta applicazione di quello che è un modello nuovo del regionalismo che sicuramente rivoluzionerà l'organizzazione sociale perché parliamo di 23 materie che possono essere devolute alle regioni di carattere statale, quindi nella filiera istituzionale regioni con funzione statale, province con funzioni amministrative territoriali e comuni per l'attuazione.